Musica Noi dell'Italia dei Valori che ribadiamo essere persone che hanno messo da parte le opposte ideologie perché in nome delle ideologie tante persone ci hanno marciato, siamo convinti che il popolo della legalità è in grado oggi di essere maggioranza e di individuare una classe dirigente che possa ridare ordine alla questione morale perché in questo momento dopo che il Presidente della Camera ha certificato il fallimento delle politiche governative ha certificato soprattutto il modello criminoso, criminale, piduista, fascista, quasi camorrista di governo da parte di Berlusconi oggi c'è necessità di mandare a casa questo despota e di ridare un governo democratico al Paese naturalmente per farlo c'è bisogno di una maggioranza, di un battito d'Ali in Parlamento per sfiduciarlo e in questo Fini deve dimostrare di essere coerente, non dire tutto quel che ha detto e poi appoggiare il governo Berlusconi ma prendere le conseguenze e contribuire a mandarla a casa ciò che noi chiediamo dell'Italia dei Valori l'Italia dei Valori preso atto del fallimento della politica di Berlusconi e del fallimento di questa maggioranza chiede a chi si vada al più presto all'elezione possibilmente con una nuova legge elettorale ma siccome non crediamo nella luna del Pozzo non crediamo che questo Parlamento con questi deputati e senatori sia in grado di fare una legge elettorale anche perché i partiti ognuno se la canta e se la suona come gli pare piace meglio andare all'elezione anche con queste legge elettorale e mandare a casa Berlusconi perché siamo convinti come è successo a Torino, come è successo a Como, come sta succedendo in tutta Italia che si sta risvegliando la coscienza civile di persone oneste che imbracciano non il fucile ma la Costituzione e la gente rossa di Borsellino per mandare a casa il clan Berlusconi non si può chiedere a un pentito che scopre di aver fatto un sacco di marachelle insieme a Berlusconi per 15 anni e dopo dice di essersi pentito e però dargli il tempo di continuare a fare marachelle il pentimento è serio e vero se ha un atto di risipiscenza concreto e torno a ripetere, questo qualche mese alle spalle del Paese non va bene c'è un'economia fallimentare che Fini ha certificato c'è una scuola che va a pezzi, c'è la giustizia a uso personale e rispetto a tutto questo non si può dire teniamoci un altro poco Berlusconi è come dire a una ragazza violentata teniamocelo un altro poco è stato violentatina Fini è sceso da Saturno e si è accorto dopo 15-16 anni che Berlusconi è un pericolo per la democrazia è un pericolo per le istituzioni che ha usato a uso e consumo proprio esattamente quelle che dice l'Italia dei valori da sempre solo che noi stiamo all'opposizione e chiediamo di mandare a casa Berlusconi lui sta in maggioranza e chiede di restare in maggioranza questo si chiama furbizia, non si chiama atto di risificienza e quindi il suo pentimento non ci sembra un pentimento vero ma soltanto una furbizia